Il mese di settembre I 50 anni di consacrazione della chiesa di San Giovanni Battista, che è la chiesa mia, quella che è collocata di fronte a casa mia. Ed è una delle sei parrocchie che esistono in Saronno, una cittadina in cui tutte e sei le parrocchie sono state raggruppate per una decisione avvenuta il 29 giugno, giorno in cui è nata mia madre, e che ha fatto della comunità ecclesiale di Saronno una sola intitolata al crocifisso risorto. Io sostengo che il crocifisso risorto è venuto dentro di me e se ne è anche andato in quel famoso termine del calendario Maya in cui io a Gerusalemme sentii e vidi uscire da me una energia che mi lasciò nella visione di me stesso morto alle due del giorno 22 dell'anno 12 di questo millennio. Ebbene, visto che il giorno di consacrazione era il 26, che è lo stesso 26 legato al 26 di luglio della presunta morte che io avrò l'anno prossimo, anno santo speciale dello Spirito Santo che questa volta è espresso nel segno della misericordia divina Io mi sono chiesto, vuoi vedere che questa chiesa, che è la mia chiesa, è stata aperta al culto riaperta al culto dopo che è stata innovata perché al corpo precedente è stato aggiunto un altro corpo davanti e dunque il 26 di settembre del 1965 essa fu riaperta nuovamente al culto mi sono chiesto quanti giorni esistono tra quel giorno e il giorno della presunta uscita di scena in me questa volta non più del figlio che se ne è già tornato in cielo ma di Padre e Spirito Santo che sono tuttora presenti in me e sono tuttora snobbati in modo grandioso da quel Pietro che in tutti i modi si è opposto a ricevermi in Vaticano perché a suo modo di vedere la mia era una forma di esaltazione mistica e io non potevo avere accesso al Vaticano egli di recente si è recato in America a dire non uccidere ma quando io mi sono messo nelle sue mani non mangiando più fino a quando il mio Pietro non si prendesse a cuore me ecco io sono stato condannato a morte da chi nemmeno nei confronti di chi si mette nelle sue mani è disposto ad occuparsi della sua vita reale ebbene ho scoperto tutto questo che segue e che vi mostro per iscritto in modo da poterci fare su anche delle considerazioni a conti fatti dal 26 settembre 1965 data della consacrazione al 26 luglio 2016 mia presunta morte ci sono nei valori interi 2652 come numero di settimane 18.566 come numero di giorni 714 come numero di 26 giorni laddove 26 è il termine uguale a Dio ed è il termine di Anna il mio terzo nome 281 come numero di 66 giorni laddove 66 è romano il mio primo nome 164 come numero di 113 giorni laddove 113 è il mio quinto nome ma è anche nome e cognome romano modeo è anche l'acronimo dualistico ossia le prime due cifre di tutti e sei i nomi 128 gruppi di 144 giorni dove 144 è l'acronimo dato dai miei primi due nomi ossia il valore 66 di romano e il valore 78 di Antonio 48 è il numero di 381 giorni laddove 381 è il numero che corrisponde a tutti i valori numerici contenuti nei miei sei nomi il 26 nove 2015 sono passati 50 anni dunque da quando il 26 settembre 1965 la chiesa di San Giovanni Battista fu riaperta al culto rispetto al 26 luglio 2016 in cui si completerà in questa parrocchia la vita del crocifisso risorto cui è ora intestata la comunità ecclesiale di Saronno la chiesa fu aperta al culto dunque 18.566 giorni prima essi sono un tempo assolutamente pieno infatti 18 per 10 al cubo sono in 3 per 6 uguale 18 la trinità nel suo pieno lavoro dato da 7 unità meno 1 ossia 6 6 volte moltiplicato 3 indica proprio tutto il lavoro compiuto dalla trinità ed è tutto quando è 1000 un mezzo per 10 al cubo sono in 5 decimi le dita della mano di Dio per come è descritta in Genesi 1 38 laddove 1 38 è anche la mia data di nascita nel gennaio dell'anno 38 66 sono le dita riguardanti Romano 66 che è una vita 33 più 33 divina laddove consideriamo la vita vissuta in 33 anni dal figlio pertanto questi giorni esatti contati dalla consacrazione alla morte di Romano il 26 luglio 2016 trascendono nella lettura inversa quella fatta da destra verso sinistra come fu scritta la Bibbia e come è scritto il Corano trascendono in 66 200 il piano assoluto ha due lati 100 di Romano uguale 66 a livello di in principio ossia a livello di migliaia 381 che si somma per determinare il valore poi di 66 581 è tutto il valore numerico dei sei nomi di Romano quindi questa quantità intera espressa in giorni ha una sua ragion d'essere anche quando è letta nel senso inverso trascendente il 18 566 come il 665 quantità assolute in 81 ecco è esattamente il piano assoluto a due lati 100 di un Romano in 66 migliaia che in relazione unitaria è il 381 del dato che riguarda tutti quanti i sei nomi di Romano che sono 381 come la somma di primo nome 66 secondo nome 78 terzo nome 26 quarto 51 quinto quinto 113 e il cognome 47 il totale è 381 e conferma il capitolo 38 di genesi o la nascita nell'anno 38 e nel mese di gennaio quando prendiamo questo totale in giorni e lo dividiamo nei sette giorni di una opera divina intera allora sono esattamente 26 in centinaia più 52 settimane che sono uguali a dio uguale 26 che esiste in 26 centinaia come dio assoluto perché dio è 26 il valore assoluto è 100 quindi quando esiste come 2600 è il dio assoluto più 26 più 26 che esiste come il piano della realtà e si vede dunque che questo valore intero quando è diviso proprio nell'intera opera creativa è tutto fatto da dio perché è 26 nel valore delle centinaia ed è 26 più 26 nel valore del piano nel lato trasversale quando prendiamo questo valore in giorni e lo dividiamo nel 26 uguale dio ma uguale anche al terzo nome di romano da in 714 il 700 che è l'opera assoluta quando è 7 in centinaia nel piano di un'opera intera in 7 giorni in un lato e 7 giorni nell'altro lato quando dividiamo il numero dei giorni che sono 18.566 nei 381 che ha romano in tutto quanto il suo nome allora abbiamo nel 48 il valore di Gesù che è dato in Genesi 25 dal 42 più 42 dei valori cabalistici di Esau e di Giacobbe che si compongono in G più Esu e si trascendono nella lettura inversa dell'84 che vale Gesù dunque quando il nome è intero quello di Romano è un numero di giorni proprio uguale al quantitativo di Gesù quando si divide questo valore nei 144 di Romano Antonio che sono i primi due fondamentali nomi ecco che viene 128 che rappresenta il 100 come valore assoluto più l'opera intera 7 1 e trina ossia 7 più il triplo di 7 7 più 21 28 quindi quando si considera il dualismo del Romano Antonio che è il 144 poi di un giorno calcolato in 10 primi ecco che abbiamo in assoluto tutta l'opera creativa 1 trina in 7 giorni assoluta ossia più 100 quando prendiamo 18 566 e lo dividiamo nei 113 valori di Romano Modeo oppure di Torquato il quinto nome oppure il valore dualistico delle prime due cifre dei sei nomi che sempre 113 è uguale allora abbiamo che esistono 164 gruppi che in 100 rivela il valore assoluto in 64 rivela un'altra forma del dio 26 come 2 elevato alla potenza 6 ripropongo questa pagina perché qui c'è anche il calcolo relativo al 66 dato dal primo nome quando il numero dei giorni è calcolato nel numero dei giorni del primo nome il 281 che rivela quanti ce ne sono è l'opera 7 più 21 ossia l'opera creativa una etrina nelle decine sommata al valore assoluto 1 del primato del primo nome insomma che cosa possiamo concludere che sia il numero delle settimane che è 26 più 26 più 26 52 il numero dei giorni che è 3 per 6 più il mezzo che esiste a dimensione assoluta e qui mi rendo conto che prima ho fatto un errore perché l'ho evidenziato alla stessa dimensione 1000 invece il 500 no è giusto perché lì era 0,5 giusto giusto come non detto lo 0,5 a dimensione 1000 rivela proprio la mano del divino mediatore di Genesi 38 e 66 è il primo nome 714 è il gruppo di 7 più un piano 7 più 7 281 è 7 più 7 più 7 in decine più l'unità 164 è 100 più 2 elevato a 6 128 è quello che avevamo già visto nel 281 però ora stavolta è 128 ed è 100 ed è 100 più 7 più 21 48 è 6 per 8 laddove 8 è proprio il dualismo divino dato da 2 elevato a 3 quando 2 elevato a 3 ossia il padre che esiste in tutto il volume 8 avanza avanza nella opera intera che ha un lavoro che è solo fatto in 6 giorni 6 per 8 48 si rivela tutto il lavoro fatto dal duo paterno e tutto il lavoro poi riguarda il figlio insomma come negare che la consacrazione di questa chiesa che è stata fatta proprio il giorno 26 sia legata a tutta la quantità che mi esprime come valore intero in tutti i nomi più importanti che riguardano la mia persona in cui questo nome come io dico non è il nome della mia persona ma è proprio quel nome segreto di Dio che la cabala ebraica ha atteso e attende ancora a Grazie.